ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi voglio proporre delle spinocine homemade le farò io e potrete farle anche voi con la mia ricetta per tre spinocine ci occorrono 300 g di petto di pollo 3 cubetti di spinaci 3 cucchiaini di grana grattugiato e del pangrattato vi lascerò comunque la ricetta è in descrizione e ora prepariamo come prima cosa quindi faccio cuocere i tre cubetti di spinaci ho messo proprio un filo di acqua letteralmente all'interno della padella questo per facilitare lo scongelamento è inutile mettere troppa acqua perché gli spinaci sono una verdura che già ne contiene tantissimo quindi va bene questa piccola quantità nel frattempo che loro scongelano vado a preparare il pollo lo andrò a frullare con un cucchiaio d'acqua per ogni 100 grammi quindi in questo caso sono 300 grammi metterò tre cucchiai di acqua gli spinaci sono pronti belli fumanti vado ad aggiungere solo un pizzico di sale un pizzichino di sale anche nel pollo petto di pollo che come vedete è risultato così e andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti resta ad aggiungere il grana tre cucchiaini inizio a mescolare ho aggiunto gli spinaci e vado a impastare insieme visto che dalla consistenza mi sembra eccessivamente morbido vado a mettere giusto una manciata di pangrattato per addensarlo adesso vado a formare le spinacine una volta ottenuta le spinacine le andremo a passare nel pangrattato singolarmente prima da un lato e poi anche dall'altro cerchiamo di mettere il pangrattato anche lungo i bordi e le spinacine saranno pronte con le dosi che vi ho dato ne vengono tre come vedete di questa dimensione più o meno mi sembrano abbastanza simili agli originali ma ovviamente se volete potete farle anche più piccole a mo' di polpette o di anche hamburger se volete friggerle vi consiglio di panarle prima nella farina poi nell'uovo e infine nel pangrattato io le farò molto leggere quindi le metterò al forno solo con un filo d'olio eccoci qua per l'assaggio ho fatto cuocere le spinacine in forno per un quarto d'ora più o meno e adesso è il momento di mangiare il primo pezzo buono molto saporito speziato è sicuramente più salutare delle spinacine pre confezionate qui riusciamo a intravedere vi faccio vedere riusciamo a intravedere tranquillamente i pezzetti di pollo i pezzetti di spinaci e quindi siamo veramente sicuri di quello che stiamo mangiando per cui davvero top se ce l'avete vi consiglio di spremere un po di limone su queste gotolette perché risalta tantissimo il sapore davvero buono per quanto riguarda le calorie ogni cotoletta ne contiene 179 e qui vi lascerò i valori nutrizionali completi invece per quanto riguarda i costi per preparare queste tre cotolette ho speso 3 euro e 50 quindi più o meno 1 euro e 20 a codoletta probabilmente vi sembrerà dispendioso però sicuramente sono degli ingredienti più sani rispetto alla roba già confezionata per cui ne vale la pena sicuramente di spendere qualcosa in più per questo video è tutto io spero che vi sia piaciuto se è così lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanella per restare connessi con tutti i miei nuovi video vi mando un bacio e ci vediamo presto in un altro video ricetta o assaggio ciao